ma marzo io lo so io lo so la cazzata che hai fatto tu con la skin tu l'hai scaricato l'avete scaricato dal play store e non dal galaxy store da veri babbi ma io sono un bidone ma io che ne so di come l'hai scaricato però ho fatto due più due e l'ho capito subito marzo si vede che non sei studiato sbagliato a sparare marzo ce n'è uno sotto ah già sei marzo scendi che dobbiamo fightare ah si dove cazzo stanno sparando non ho capito ma non c'è colpi c'ho l'arma senza colpi perché te ne vai da me non mi abbandonare marzo devi smettere di fare casino con quel cazzo di microfono non sto capendo niente non sto capendo una mazza che prende di questo e questo no c'è l'ho c'è l'ho ah il pump si sente tu che smanetti come un drago io c'hai colpini si vieni ma anche forse quegli altri mi servono di cosa a r pump vieni o 14 25 vieni tieni e se ne va vi sono lasciati qui non avevo capito solo davanti oddio qua c'è una porta da 5 che me la devo sdruzzare aver visto una tra qua ci sono le pistole che ti piacciono a te che fanno cacare sono fortissimi sono fortissimi ok ok guarda ma mentre io fightavo lei cosa stava facendo oh l'ho preso in testa con il colpo non l'ho accetto questa cosa quando faccio qualcosa eh oh c'è gente c'è mi pusha oh no c'è la slurp si è scelta c'è pure un medio ce l'hai sopra non posso aiutarti no non ti posso aiutare perché non hai materiali per salire e fai dare ma neanche io cioè no io ce li ho in realtà ma dove è cazzo che minchia la messa questa cosa madonna sento solo i tuoi tasti ti è tu col rampano? si e dimmelo che cazzo fai? sto cercando gli altri no l'ho ammazzato io no mi sa che stanno sopra il porta forza forza conta io stavo cercando di smiccare sentivo solo oh Giorgio l'ho ammazzato aspetta eh aspetta aspetta devo fare la tua imitazione non si sente niente sei stato all'arche ah mannaggia che c'è il microfono buono ho messo la slurp sotto questo coso mamma mia 200 e più marzano qua oh ma lì c'è una cazza eh io vedo il cubo sta per partire no vuoi vedere il cubo? ah mancava 15 secondi ho detto ai 10 andiamo qua sopra eccolo Giorgio? eh mi sono fermato qua all'angolo ma si muove solo ragazzi che evento mortacci vostro si è solo mosso e questa era tutto la cosa che stiamo guardando oh madonna no a marzo io devo andare dove? devo andare a pushare loro sono sotto ho capito non stiamo via di qua bravo marzo bravo marzo tanto ancora una volta ma che minchia spari? ma gente che cammina che ma vivele queste cose eh ma tanto è andato dietro al muro eh che come facevo gli ho sparato prima che andassi dietro al muro vieni va eccolo lo vedo ha provato per la spararmi vabbè lo prendo? come lo vedo? oh cazzo è andato vicino veramente nooo oddio l'ho presa bravo ragazzi non esiste una coppia migliore di me e marzo no ragazzi veramente preferisco lo scar o lo scar silenziato io lo scar perché sparo più a minchia chi sa mirare quello silenziato ma quello silenziato è più preciso c'è uno marzo c'è uno che mi spara da qualche altra parte sei qua dietro di me scudato no la trappola no non ti puoi far prendere la trappola marzo dai c'ha uno di vita c'ha uno di vita la avevo spaventato ok ok qua sotto c'è la trappola ok 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 ragazzi però dai L'hai trollato, l'hai trollato Non ho trollato, però l'avevo giocata bene Non mi ha preso con un colpo lui LOL E' besta la prossima lo metto Ma lui si è andato e dove è andato Sarà là Lo vedo, lo vedo Io no Oh tu che c'è la trappola qua sopra di te C'è anche un medico che io ho fatto in te Bravo Odd, ho lasciato tutte le mie pozze lì Quando sono spariti, scusami Eh? Non lo so Stai avranno preso la pedana tua No, è distrutta Non sparano a te Pulito Ma Ma Giorgio Che succede? Ma che stava facendo? Si è nascosto Ma di merda Quello è tuo, eh Stai con la testina fuori 16 16 Tallone da killer Minchia Buildano questi Oh Mo' perchè sei il giocatore più forte del mondo, eh Ma questi sono forti Simpatici che stavano Stavano outsmarted Sì sì Simpatici che stavano là dietro accucciati tutti a due Eh però Erano bravi Gio Anche loro madre era brava Quello che hai outplayato Era bravo, vero Poi il toilet che hai trovato a te Era forte Vero Stai giù 1v1 Situazione Altissima giù What? Cos? 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 Chi voleva outsmartare? Chi voleva outsmartare questo? E' un fenomeno, cazzo Quella roba della piramide a quello era E' stata tipo Wow, bro The fuck's going on Quello era tipo Many fresh in the building You feel me? Traps on the buildings Ma Grazie Grazie Grazie